Domenica scorsa Villa Campolieto, un riconoscimento al merito per la cultura nell'ambito delle passeggiate leopardiane per aver interpretato emozioni e sensazioni del rapporto epistolare tra Antonio Ranieri e Giacomo Leopardi. È stato un bel riconoscimento, vedo che l'ente Villa, l'ente Villa Vesuviane si attiva su questi profili, su questi aspetti, ha preso un'eredità impegnativa, quella di Paolo Romanello, ma indubbiamente sia il presidente che il direttore generale Gennaro Miranda e il direttore generale Roberto Chianese stanno portando veramente in alto il nome dell'ente Villa Vesuviane. Ma il nome di Antonio Borriello, oltre alla letteratura, oltre ad essere docente, è legato anche al teatro, alla storia del teatro che parte dalle vicende di Torre del Greco, da un nome che ha fatto la storia Torre Gennaro Vitello e va nel mondo. Io con Gennaro avevo un rapporto padre-figlio, Gennaro aveva più di vent'anni di me, stavamo insieme giornate intere. Gennaro andava al liceo artistico, insegnava architettura e io stavo all'Accademia di Belle Arti, facevo scenografia. Io allora avevo già il mio gruppo teatrale, la mia compagnia, il gruppo sperimentazione teatrale ABC, mentre Gennaro stava a Via Martucci nel Teatro S. Teatro S che da lì a poco poi ha avuto dei problemi, l'hanno sfrattato, è andato via Gennaro e lui sapeva che aveva un grande laboratorio a Torre del Greco. Ebbene tutti i suppelletti, le scenografie, tutti i materiali di scena furono portati qui a Torre del Greco presso il mio laboratorio. Gennaro è stato a Torre del Greco ospite mio per un lungo periodo. Mi chiese di trovare un posto dove poter fare teatro. E così da Via Martucci aprimmo questo teatro nel garage a Torre del Greco in Via Nazionale. E da lì è poi nato un po' tutto, una serie di sperimentazioni, di messe in scena e di studio. Gennaro come me non amava la messa in scena, ma amava l'aspetto pedagogico, lo studio, la ricerca, si entrava al teatro nel garage di buon'ora e si usciva di notte, proprio per sperimentare, per trovare nuovi linguaggi. E per questo amato tanto Gennaro. Ma il nome di Antonio Borrello è legato nel corso degli anni e del tempo ad una figura specifica del teatro, Samuel Beckett. Quando Antonio Borrello incontra Beckett e perché diventa Beckett l'oggetto, l'interesse di studio di una vita? Già ai tempi dell'Accademia di Belle Arti, ma successivamente anche i miei studi posteriori, quello con l'Università di Salerno, con grandissimi studiosi come Achille Mango innanzitutto, mi portano ad avvicinarmi a Beckett. E fu anche Gennaro a indirizzarmi in quel senso. E il mio rapporto con Beckett parte da allora, poco più che ventenne. E mi porta un po' in tutto il mondo. E questi miei studi poi sono stati tutti riportati in volumi importanti. Ce n'è uno che mi sta particolarmente al cuore. Quello pubblicato dalla ESI, Edizioni Scientifiche Italiane. Ed è il rapporto come passa, lo spettacolo come passa, dalla pagina alla messa in scena. Questo pubblicato dalla ESI aveva anche un apparato bibliografico, a tutt'oggi forse quello più importante al mondo, di oltre 2000 voci, dico 2000 voci di prima mano. Beckett per me è stato il mio faro che mi ha seguito, mi ha illuminato per tutto un lunghissimo percorso. A mio avviso, dopo Pirandello e Beckett, il teatro sostanzialmente è concluso. Quali sono gli elementi, gli aspetti che lei ha inteso mettere in luce attraverso le pubblicazioni, ma soprattutto per Antonio Borrillo, chi è il vero Beckett? Qual è l'umanità di Beckett? Nel secolo breve, ripeto, Pirandello e Beckett sono i fari che hanno illuminato, loro profeti del loro tempo, ma profeti del nostro tempo. Tutto quello previsto da Pirandello e da Beckett sono questioni che riguardano noi, che riguarderanno la futura umanità. Questi aspetti che ho considerato sono quelli che riguardano l'esistenza, il valore dell'uomo, l'essenza dell'uomo, quello che riguarda la fratellanza, la vicinanza, quella simbiosi. L'uomo spesso in questi tempi è caduto nella più profonda solitudine. E Beckett ha emesso l'indice su questa cattiva condizione dell'uomo, la solitudine. L'uomo spesso in questa cattiva condizione dell'uomo, la solitudine. L'uomo spesso in questa cattiva condizione dell'uomo, la solitudine. L'uomo spesso in questa cattiva condizione.